Oggi vi porto a visitare dei reperti archeologici. Siamo sul Monte Campanella a Milena. Vi faccio vedere delle tombe a Tolos di 1300 anni a.C. Sono delle tombe di provenienza dei popoli di Creta che risalendo il fiume Platena e il fiume Gallodoro si sono stanziati in questa zona facendo dei commerci con le popole locale con i sicani. Questa è una parete dove sono state trovate queste quattro tombe. Le prime due nel 1941, le altre due che non riusciremo a vedere sono state trovate nel 1971. Ci sono poi tante altre gallerie di origine carsica ma non riusciremo a vederle. Per arrivare a questo punto vi è una strada di facile accesso poi un 50 metri di scalinata di via Ottoli e poi un'impalcatura da carpenteria per poter arrivare a queste altezze qua sopra e vedere queste due tombe. Prima vi faccio vedere questa Tolos di qua, un pochettino più più scacciata rispetto a quella. Guardate, tanti graffiti di stupidi che vengono a rovinare reperti di 3.300 anni. Qua ci sono una specie di letto dove sicuramente venivano messi ad assiccare i cadaveri per farli asciugare. Qua in questa tomba c'è un lieve effetto armonico in funzione all'altezza dove ti metti c'è il suono sempre a provenire da dentro la tua testa e non dalle orecchie. Nell'altra tomba che è un pochettino più grande e le misure sono un pochettino differenti si ha un effetto molto molto bello l'audio assume un suono veramente particolare. Guardate come nell'altra vi è il letto di morte dove i cadaveri venivano messi ad asciugare. Questa ha la porta con un pochettino a rientrare. Mettendosi qua nella parte centrale si ha un effetto audio particolare dove tutto rimbomba. In questo punto preciso vedete se riuscite ad ascoltare l'audio come si trasforma. Una cosa incredibile. Il suono non sembra più uscire dal petto, dalla bocca delle persone ma sembra generato dalle pareti come se fosse interno alle nostre orecchie direttamente. Va bene usciamo guardate che bel panorama che si vede da qua sopra siamo il 25 aprile giorno di natale un sole un sole spettacolare molto molto caldo. Amici che dirvi se volete venire a vedere queste tombe dovete venire qua a Melena in provincia di Caltanissetta. Facile da raggiungere non ci sono problemi e sono sono reperti di oltre 3.300 anni addietro molto di più dei reperti romani molto di più anche dei reperti greci veri e propri. Questo dimostra che già anticamente i sicani erano ospitali e permettevano perché qua sotto c'era un villaggio sicano permettevano alle popolazioni straniere comunque di venire a vivere in questi posti di di fare anche le loro tombe rispettando i loro dei loro dei loro i loro culti. Una buona festa a tutti visto che è natale ci vediamo per i prossimi video sempre di cose poco conosciute ma particolari da vedere guardate che bello questo ingresso guardate spettacolare è una cosa bellissima ragazzi ci vediamo alla prossima e vi farò vedere sempre cose bellissime per per chi è amante di questo genere di cose ciao amici